Presso le municipalità stiamo raccogliendo le firme a sostegno di un progetto di legge che intende superare le barriere territoriali in materia di assicurazioni auto. Basta pagare tre volte tanto la stessa assicurazione perché si è cittadini napoletani. Noi raccogliamo queste firme per affermare di nuovo che l'Italia è una, che i napoletani non devono essere tassati in modo diverso dai cittadini italiani, ma lo facciamo anche per i nostri figli perché domani, nel momento in cui prenderanno la nostra macchina, non siano già dall'inizio ipertassati rispetto a un loro coetaneo milanese, genovese o bolognese. RCA Auto Tariffa Italia. Questo progetto di legge è sostenuto dall'intero Consiglio Comunale della città di Napoli che con un voto unanime ha dato indicazioni positive spingendo a firmare. Bisogna recarsi presso le municipalità, bisogna recarsi presso i gazebo che organizzeremo nella città di Napoli muniti di un documento di identità per firmare un progetto di legge che è di equità sociale. Firmiamo e firmiamo adesso tutti insieme.